E dalla fine ci siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati a quello che è la settimana più lunga di Bitcoin, la settimana più interessante di Bitcoin, la settimana più importante per una svolta di natura istituzionale sì o no, è anche vero che c'è la scadenza poi di marzo, eventualmente questa non vada a buon fine, ma è anche vero che c'è una grande aspettativa, sui mercati c'è una grande aspettativa per questa approvazione dell'ETF che dovrebbe avvenire entro dopo, quindi in pratica ogni giorno è quello giusto sostanzialmente e così soprattutto aver allungato tanti tempi a me non è piaciuto perché avrei preferito sostanzialmente assistere ad un'approvazione prima della scadenza tecnica e secondo me se doveva essere approvata senza particolari problemi o cose strane ne avrebbero fatto prima. Comunque questa cosa non è avvenuta, mancano due giorni, che cosa succederà? Ora siamo nell'ottica della volatilità per eccellenza, andiamo a vedere quindi una sola cosa, cioè l'unica cosa che conta, il dettaglio. In questo momento conta solo quello, il dettaglio tecnico che ci lasciano i prezzi, gli indizi, le mollichine di pollicino che possiamo andare a leggere a livello grafico, quello che c'è sarà visibile solo lì perché tutto quello che riguarda la questione fondamentale, eccetera, di bitcoin è fuori luogo ormai e soprattutto tutto quello che riguarda la news e quant'altro qualcuno già la sa, la conosce, qualcuno che doveva mettere mano ha già fatto questa cosa, perciò sostanzialmente l'unica cosa che noi possiamo fare per andare a comprendere dove, come e quando e andare ad analizzare in questo caso ancora più del solito che già praticamente è molto più, diciamo, utile e interessante farlo già nella normalità, ora proprio è praticamente l'unica cosa che ha un grande, grandissimo valore. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con il mio bitcoin qui in stile cattivone di James Bond, fantastico questa cosa così, ma prima di andare avanti vi devo ricordare le ultime sei ore in scadenza per quanto riguarda la super offerta che abbiamo fatto per la presentazione del nuovo progetto Trading On, cioè il blog con tutte le notizie e poi volevo darvi, io volevo ringraziarvi perché abbiamo avuto subito un boom di visita sugli articoli, è una cosa carina però, non è che, diciamo, è un business, diciamo, gigantesco, è una cosa fatta per creare formazione e quant'altro, molto bello pubblico i link dei vari articoli che escono sul canale Telegram, ma lo trovate in descrizione, è gratuito ovviamente e tra le altre cose, l'ho trovato molto interessante anche per me perché posso pubblicare delle analisi, fare delle cose, insomma, ho trovato un posto dove posso scrivere, fare delle robe che prima non potevo fare, insomma ragazzi, quindi è veramente figa questa cosa, mi è piaciuto tantissimo. Tra le altre cose proprio nella giornata di oggi è stato pubblicato anche questo articolone su Brambi che spinge ancora dicendo Bitcoin volerà oltre i 500 mila dollari dopo l'Halving, io su questo voglio fare un sondaggio qui sul canale ragazzi e insomma cercare di capire. Secondo voi questa cosa è plausibile? Io ho già la mia idea, ve la dico nel prossimo video, è plausibile sì o meno? Lasciatemelo scritto nei commenti, io comunque vi lascio l'articolo, poi nel blog lo trovate in un page oggi perché è giornata diciamo di questa cosa, però ragazzi qui ci sono 6 ore scadenti alla scadenza della offertona dei corsi per quanto riguarda l'ultima volta che li mettiamo a questi prezzi in offerta. Poi passeranno ai prezzi normali e poi ci saranno offerte cadenzate nell'arco dell'anno in determinati periodi. Quindi se volete formarvi soprattutto in vista della questione legata all'Halving di Bitcoin, alla questione TF, a come gestire questa questione qui che ne parleremo proprio oggi ragazzi di come è importante, vi dirò anche quello che ho intenzione di fare e poi mercoledì in diretta cercheremo di capire anche domani, insomma saremo sempre attaccati in questa settimana se dovessero arrivare notizie, ma in questo contesto la formazione risulta praticamente non importante ma essenziale, l'unica cosa che veramente mi serve. Ascoltavo un vocale di un iscritto in Academy poche ore fa ragazzi, dove mi ringraziava quindi di cuore, insomma in cuore gli devo rispondere o gli risponderò, però la cosa essenziale che mi diceva era l'assenza di formazione, ho fatto un sacco di danni negli anni passati quando le cripto potevano dare anche molti risultati ragazzi, molti di più di quello che potevano dare adesso. Non è mai troppo tardi per iniziare ma non rimandate una cosa che poi alla fine vi piace. Qual è la variabile che vi devi far scegliere se fare o meno un corso di formazione ragazzi? E' una, è una sola, i giapponesi la chiamano l'otaku, cioè voi dovete essere appassionati di questa materia, se siete appassionati di questa materia allora il corso è essenziale per voi e lasciate perdere tutte le bacianate che scrivete, poi insomma se lo fate poi mi darete ragione al 100%, ma se non siete appassionati, se non vi importa state là a cercare dei modi per guadagnare facile, non c'entra niente, va bene? I corsi di formazione sono studio, applicazione, hanno un senso logico ragazzi, farvi evolvere, spastare da un gradino 1 a un gradino 2, non farvi fare i miliardari con la Lamborghini finta, comprata in affitto diciamo, ok? Non c'entra niente questa cosa ragazzi, è come quando andate all'università, imparare le cose, dovete avere la passione, questo è importante, avete la passione? Il corso far per voi, non avete la passione? Leggetevi un libro, magari vi viene la passione, no, perché è questo il discorso, allora vi lascio il link in descrizione, le ultime 6 ore non vi fate scappare questa offertona, e sì ovvero ho fatto una scillata a me stesso, però è diversa no? Perché l'ho fatta un po' spiegandomi i veri concetti, quelli che io effettivamente metto in atto da sempre della mia vita, è che molti hanno portato grandi vantaggi utilizzando questa cosa, quindi la caratteristica no chiave, quella che serve. Prima grafico da andare a guardare per quanto riguarda Bitcoin, è essenzialmente questo qui ragazzi, il grafico daily di Bitcoin, poi alla fine del video andremo a guardare dove sta questo grafico qui, ma già vi dico che non analizzeremo quello che vi dico alla fine del video, ma vi faccio capire l'importanza di questo grafico qui, e il perché è veramente essenziale andarlo a conoscere, nelle prossime settimane non è essenziale conoscerlo oggi, oppre a questione dell'ETF non c'entra niente, perché qui siamo short term, quello però è essenziale conoscerlo long term, ed è veramente molto molto importante. Detto questo ragazzi, sostanzialmente iniziamo da questa figura tecnica, la figura tecnica che ho già spiegato l'altra volta, ed ho anche accennato la cosa in un articolo sempre sul nostro blog, eccetera, questa figura tecnica è una figura da non sottovalutare ragazzi, perché? Perché il mercato, quindi Bitcoin in questo caso, si è riportato sostanzialmente nella parte alta di questa figurazione, io ora qui vi ho inserito un canale parallelo, perché volevo avere in sostanza delle zone di livelli master, cioè di livelli up, di probabili aree di resistenza, o anche aree di arrivo, qualora dovesse essere approvato, nella questione ETF, perché? Potremmo assistere anche ragazzi, ad una, diciamo, boom iniziale, se dovesse essere approvata questa notizia, ma il boom iniziale potrebbe avere una shadow lunga, pronunciata, come un hype a livello emotivo, la cosiddetta shadow da pomo, quella che in realtà non è positiva, ve lo dico già da subito, cioè magari domani approvano, fa una shadow, questa shadow dove può arrivare? Allora io ho detto, nel video di oggi buttiamo dentro, visto che siamo nel Bitcoin Monday, buttiamo dentro quello che è un'area di, di, come si dice, un'area di arrivo, no? Un contenitore, dove in effetti la shadow di Bitcoin potrebbe arrivare lì, all'interno di questa struttura, se dovesse esserci un hype della questione ETF, però da lì poi si vede di che pasta è fatta, quell'eventuale shadow, se non c'è la provazione di ETF, la shadow neanche ci sarà, probabilmente ci sarà il classico sell, da dampone e basta, però se c'è questa questione potremmo assistere anche all'arrivo in questa area di pricing, che adesso andiamo a vedere insieme. Solo al di sopra di questa area, il movimento impulsivo, se dovesse essere approvato l'ETF, sarebbe consistente e significativo, e non sarebbe solo pomo, ma all'interno di quella zona è tutta ancora pomo, quindi avendo questa idea di base, se dovesse arrivare domani, dopodomani, questo ETF avete una zona da monitorare, ve lo dico prima, perché se ve lo dico dopo non ha molto senso, quindi a prescindere dal fatto se sarà approvato o meno l'ETF, questo non lo sappiamo, io intanto mi brucio questo video, che ovviamente scadrà entro due ore, magari perché lo provano fra due ore, non lo so, però io ve lo dico e se scade ragazzi subito, per favore i mi piaci su questo video, che sto bruciando il video il lunedì, per dirvi questa cosa, poi magari dura un'ora, mentre lo sto caricando, approvano e finito tutto, e quindi dovevo rifare la capola, scherzi a parte, però un pollicione ragazzi, vi date un avaro, e soprattutto sono contento, che facciamo questo viaggio insieme, questa volta, veramente in maniera molto più consapevole, allora livello best resistance era il 46.500, secondo livello up, secondo me è in zona 47.700, io qui ho messo 5.700, per me è completamente irrilevante, 100 dollari su bitcoin, visti i prezzi che ha, però questa zona, l'intera zona qui, è essenzialmente un'area da monitorare, perché una shadow da FOMO potrebbe giungere all'interno di questa zona, ma poi la close del daily di bitcoin potrebbe invece ritornare indietro, quindi fare per esempio un opening, una shadow e un rientro con una close sotto, per esempio il livello del canale ascendente che vi ho disegnato, quindi fare una cosa del genere creando il cosiddetto picco di massimo, che non sarebbe cosa buona, la stessa identica figurazione che aveva fatto qui con il fake breakout, di questo livello di support, di resistenza, che poi si è trasformato in pratica in un fake breakout, che ha dato spazio allo sciacquone di liquidazione manipolatorio, la manipolazione ribassista avvenuta per buttare fuori una serie di long, e soprattutto dei trader e ci sono riusciti al grande. Allora detto questo, questa zona monitoratela da 46.5 a 47.7 circa, sono un migliaio di possibili shadow. Al di sopra di questo livello, quale è l'altra zona che potremmo andare a monitorare, la dobbiamo assumere e prendere dai dati passati, ma secondo me tra 48.5 non c'è niente, cioè in sostanza se dovesse andare a superare con facilità questa zona e andare a inserirsi al di sopra di 47.7, chiudendo, deve chiudere un daily almeno, o almeno un daily ragazzi, perché questi sono livelli importantissimi e bisognerà comunque attendere due giorni dopo, come avete visto, perché qui ha fatto il daily ma poi ha ritracciato il giorno dopo. Questo giusto per spiegarvi il concetto. Perché? Perché sono livelli importantissimi, non perché il mercato è cattivo. Qui non si fa l'ingresso ragazzi, qui si gestisce un ingresso che è stato fatto a tempo immemore, cioè è stato fatto praticamente quasi un anno fa, si deve gestire le posizioni che sono già in ottimo profitto. Lo so, molti di voi magari sono rimasti al palo per quanto riguarda questo rialzo di Bitcoin, non è mai troppo tardi, però questa vi serve anche per informarvi, appunto comprendere queste fasi. Allora, solo di sopra dei 47.7 con conferma in close, si entra nella seconda fascia di resistenza tra 48 praticamente e 50.000, una fascia che può contenere Bitcoin per un po' di tempo. Al di sopra i 50.000 è pomo colossale ed è molto al di sopra insomma di quello che sono le mie aspettative, però beh venga ci mancherebbe ragazzi, tanto voglio dire. Cioè più ce n'è meglio è per chi gestisce questa fase, però dal mio punto di vista cosa succede invece se tutta questa manfrina non avviene? Cioè se la scatenza e l'ETF non avviene niente avviene un classico sello news. Intanto, primo dato essenziale, la giornata di oggi non deve in nessun caso scendere sotto i 44.500 dollari, in nessun caso. Se noi già nella giornata di oggi, lunedì 8 di gennaio, non andiamo a chiudere il daily al di sopra di questo livello 45.000, 44.500 si andrà a verificare un altro fake breakout, tra le altre cose dopo un primo fake breakout, che configura in sostanza un massimo con un massimo decrescente, confermato in close da una shadow molto lunga, che è indicativo di una pericolosità enorme, perché basta una negazione dell'ETF e poi si arriva giù, a testare il canale discendente. Invece, il completamento di questa candela, che va benissimo anche così, anzi, già vi dico che, a meno di notizie scioccanti o roba del genere, oggi sostanzialmente potremmo aver fatto i giochi, perché la volatilità della giornata di lunedì è già ampia rispetto al solito. Però, questa zona qui, diciamo, potrebbe andar bene se ci chiude sopra. Se poi ci fa il favore di chiudere al di sopra della precedente chiusura, e quindi 44.970, ma andare a chiudere prezzi bit stamp in questo caso, andare a chiudere quindi a 45.100, 45.000 e qualcosa, è meglio perché abbiamo fatto il breakout anche dei massimi, quindi ancora meglio in pratica, perché si va a configurare un nuovo massimo in chiusura daily. Poi, detto questo, tutto passa appunto alla questione delle news, che secondo me è ormai attesa, quindi il mercato non si muoverà in maniera consistente prima della news della questione ETF, e se lo fa è solo perché la news è già uscita, è già sfuggita ai controlli. Va bene, detto questo, vi passo alla questione legata al grafico che volevo farvi vedere, che è questo qui di cui parleremo nel prossimo video, perché è un grafico importante e che ci dà un conteggio temporale di quello che potrebbe essere la fase finale di questa zona. Ora, io personalmente, ragazzi, dovremmo andare a ragionare sulla questione della, di questo grafico qui, ve l'avevo già accennata precedentemente, e cioè, se l'iper comprato, questo è un RSA, vi faccio vedere come è settato, un RSA medio, con un RSA settato a 14 settimane, e la media a 8 settimane, a 8 periodi dell'RSA, quindi è una media smussata sull'RSA, in pratica, un indicatoro un po', fatto in maniera diversa, è ciclico. Allora, questa struttura, la vedete in maniera molto chiara, ve l'avevo già mostrato, c'è un iper comprato qui, ora la domanda è, siamo qui o siamo qui? Questa è la vera domanda, di questa struttura di iper comprato, non c'è nessun segnale di inversione, come vi avevo detto anche nel precedente video, adesso non mi ricordo quando ne avevo parlato, ma recentemente di questa cosa, perché per esserci un segnale di inversione dobbiamo assistere ad una divergenza tra l'indicatore in questione e il grafico e dopo aver assistito delle divergenze dobbiamo vedere un'inversione sui prezzi di Bitcoin, allora sì che le questioni vanno a tornare, diventa estremamente pericoloso. Al momento non è così, però è essenziale andare a fare un ragionamento. Se siamo in questa zona e cioè a giugno 2019, siamo pronti in pratica per andare, non dico a fare questa struttura ribassista, ma per andare a avere un laterale ribassista che poi sarebbe anche coincidente con la questione della chiusura dei cicli annuali di Bitcoin, se non è già stato chiuso secondo una questione ternaria, ma anche questa questione dei cicli annuali li rivediamo nei prossimi video, perché prima attendiamo la conferma, sì o no, di questa questione del TF, poi ragioniamo perché secondo me in questo caso la questione del TF inciderà notevolmente anche sull'analisi ciclica e quindi ci sarà un do-to-death, cioè ci sarà, ok, c'è l'analisi ciclica, ma il modo in cui si sviluppa questa analisi dipenderà molto da una notizia del genere, che è una notizia impattante, è una notizia unica, non è una news a cavolo che esce ogni giorno che non serve a niente, ma è la notizia delle notizie sostanzialmente, quindi è una cosa che va a impattare in maniera importante sulla questione fondamentale di Bitcoin, cioè il lato domanda di Bitcoin che viene ad essere aumentato sostanzialmente per l'arrivo di eventuali istituzionali. Vi faccio vedere anche come la questione sul grafico settimanale è, come sempre il mio grafico preferito per il medio-lungo periodo più chiara rispetto a quella daily e che vi dice in maniera molto netta, semplice e banale che il livello di resistenza 46.007 è il livello da abbattere di 46.005, 46.007, questa zona. Però poi io vi ho aggiunto un eventuale shadow appunto in questa parte qui intorno ai 48 perché può essere una struttura di shadow. Ma se andiamo a vedere poi gli eventuali altri livelli che si possono disegnare anche se non sono livelli di grandi resistenze, ve lo dico, perché poi è strano, qui invece sul grafico settimanale sono in area 51-52.000 dollari, quindi una conferma con breakout della rottura di quell'area che vi dico potrebbe tranquillamente poi portare Bitcoin tra i 48 e i 52.000 dollari prima anche di fare un'eventuale chiusura del ciclo annuale. non c'è niente di anomalo, non c'è niente di strano, è normale e tutto filerebbe liscio. Ma questo grafico qui e questo indicatore qui ci può dare una lunghezza temporale. Lo andiamo ad analizzare nel prossimo video, quindi non ve lo perdete perché è interessante, perché ci può dare una scadenza temporale. Due giorni rimasti, ETF sì, ETF no. Noi monitoreremo la situazione live, quindi every day per every day, anzi direi ogni minuto, minuto per minuto, e cercheremo di capirci qualcosa. Qualora dovesse uscire la news, io non so dove mi trovo, dove mi trovo, mi trovo, si parte con la live, a meno che non esce di notte, anzi molto probabilmente sarà di notte, perché magari la comunicano a chiusura dei mercati alle 22 orario, se siete in Italia, 21 diciamo, orario zero, e a chiusura dei vostri, in pratica è così. Va bene, fatemi sapere anche cosa ne pensate, voi cosa mi frulla in testa, questo ETF ce la facciamo no, e perché ci tengono così sul filo del rasoio l'ultimo minuto, di solito le notizie belle quando arrivano, arrivano all'improvviso, non è che aspettano la scadenza, scattano l'orologio e premano play, a me questa cosa, non è per niente, piaciuto. Voi cosa ne pensate?